Albert Gudmundson ha detto sì all'Inter ma c'è un problema adesso ne parleremo ricordo a tutti chi è questo calciatore una seconda punta piace giocare anche a destra e a sinistra in tutti i reparti dell'attacco del Genoa ovviamente dove ha realizzato quest'anno 14 reti ragazzi non è facile per un calciatore non essendo prima punta a realizzare tutti questi gol con quattro assist parliamo di un calciatore islandese dell'Islanda è nato a Reykjavik ed è alto 1,77 m è un destro che non disdegna anche di un buon sinistro e il Genoa l'ha preso ha fatto un affare clamoroso prendendolo dalla Zeta Alkmar a poco più di 2-3 milioni adesso ha un valore di mercato di 22 milioni però l'Inter avendo il suo sì potrà gestire molto bene questa situazione con una proposta al Genoa anche come contropartita tecnica con qualche calciatore qualche giovane ma il problema dell'Inter non è Gundunson non è il Genoa è ben altro ragazzi intanto un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli che vi invita a supportare questo video con un like con un mi piace ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto attiva anche la campanella delle notifiche per non perderti tutti i miei video ho anche un secondo canale ti lascio qua sotto il link in descrizione Caffarelli solo calcio è giovane aiutami a farlo crescere ragazzi stavo dicendo che nonostante Gundunson abbia detto già sì all'Inter l'altro giorno si è espresso in termini entusiasti per quanto riguarda la squadra di Simone Inzaghi ha affermato che sarebbe contentissimo di farvi parte ha parlato bene di Cialanoglu di Lautaro insomma il calciatore sarebbe lusingato di far parte della squadra campione d'Italia che quest'anno ha dominato il calcio e che si è mossa prima degli altri per quanto riguarda il mercato in entrata con due parametri zero ragazzi lasciatemelo dire abbastanza eccellenti veramente parliamo di due calciatori che tecnicamente e soprattutto dal punto di vista del gioco potrebbero far comodo alla grande a Inzaghi come Taremi stiamo parlando di un attaccante formidabile preso a parametro zero ragazzi e Zielinski centrocampista tutto fare lo puoi mettere dietro le punte lo puoi mettere in mezzala ex Napoli a questo punto perché ormai la stagione è finita e quindi la ciliegina sulla torta potrebbe essere Gudmundson che andrebbe a fare l'attaccante e quindi si aggiungerebbe già a quelli che ci sono Lautaro Turam Taremi e Gudmundson Gudmundson stesso qual è il problema? qual è? Arnautovic perché Marco Arnautovic non vuole lasciare l'Inter questa è la notizia della gazzetta dello sport e la domanda sorge spontanea dove sta la novità? in fondo ormai ci siamo abituati dice la gazzetta dello sport nessuno vuole lasciare il club dell'Inter il club dell'Azzurro molto volentieri figuriamoci adesso che c'è la seconda stella e per quanto riguarda l'affare Gudmundson è bloccato da questo problemino no? perché l'Austriaco era stato era stato chiarissimo pochi giorni fa nessuno ha parlato con me o con il mio manager ho un contratto con l'Inter sono molto contento dell'Inter e resterò all'Inter quindi Arnautovic non se ne vuole andare ma come spiega il giornale appunto la testata giornalistica il club avrebbe già comunicato all'attaccante la volontà di separarsi invitandolo a cercarsi un'altra squadra esiste il rischio di minusvalenza ma il progetto dell'Inter è chiaro fuori Arnautovic dentro Gudmundson con l'islandese che è già bloccato da Marotta e come ho detto all'inizio felicissimo di vestire la maglia dell'Inter tutto dipende di Arnautovic quindi ragazzi che lui avrebbe già detto no avrebbe già scartato l'ipotesi della Saudi League dove ci sono i soldi dove ci sono i petrol dollari e avrebbero offerto ad Arnautovic un contratto ma lui non ne vuole sapere vuole rimanere all'Inter anche facendo panchina anche subentrando a partita già in corso insomma Arnautovic ha dato il suo contributo sì però non è stato mai un titolarissimo di questa squadra invece lui vuole rimanere e quindi ragazzi tutto ciò blocca l'entrata di Gudmundson vedremo se Marotta come al solito con i suoi colpi da maestro da grandissimo manager che è riuscirà a mettere d'accordo Arnautovic in uscita e Gudmundson in entrata ma penso che per quest'ultimo non ci siano problemi anche se c'è la concorrenza di altre squadre perché Gudmundson è ben visto anche dalla Juventus e dal Napoli e soprattutto il Napoli ha soldi da spendere molto probabilmente venderà Osimena e quindi l'uscita dell'attaccante nigeriano porterà nelle casse di De Laurentiis denaro liquido che possano far sì che il Napoli abbia soldi per spendere e per proporre al Genova un'ottima offerta per comprare Gudmundson che come ripeto ha un valore di 22 milioni di euro sul mercato transfert market non lo dice Enrico Caffarelli non lo so come andrà a finire questa situazione ragazzi vi invito a supportare questo video con un like a commentarlo voglio sapere la vostra cosa ne pensate di Gudmundson se vi piace come lo vedrete lo vedete nell'Inter se un domani potesse vestire la maglia nerazzurra vi do una buona domenica appunto vi ripeto lasciate un like iscrivetevi al canale supportate Enrico Caffarelli che vi dà una buona giornata anche se a Roma oggi piove brutto tempo e vi saluta e vi ringrazia per la visione ciao a tutti